M. Andrelli di G24, una sconfitta immeritata per come è arrivata nel finale. Cosa è mancato? Tantissima mare in bocca, usciamo dal campo, penso un risultato immeritato e ci deve dare un grande insegnamento purtroppo. L'avremmo evitato volentieri questo insegnamento, però abbiamo avuto tante occasioni, anche clamorose, per andare in vantaggio. Non ci siamo riusciti, avremmo dovuto fare qualcosa di meglio sicuramente perché erano le nostre possibilità, le nostre corde. E alla fine prendiamo anche la beffa e quindi usciamo con zero punti da una partita fatta bene su un campo difficile contro l'avversario che comunque ha creato, anche loro hanno creato delle occasioni, però penso che alla fine il risultato non sia quello giusto. Anche Piaggio il messaggero chiede almeno il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Forse nell'ultima parte di gara si è chiuso un pochino troppo dietro? Ci siamo chiusi, avevamo due ali quasi attaccati, un trequartista e una punta, quindi qualche volta ci hanno costretto a indireggiare. Abbiamo avuto le opportunità, abbiamo avuto tante troppo clamorose, purtroppo non siamo stati in grado di sbloccarla e metterla su dei binari a noi più favorevoli e poi nel finale purtroppo l'episodio ci ha punito e usciamo con una sconfitta che fa male, ma ovviamente indietro non si torna e quindi si può guardare solo avanti. Luzza del tifoso, possiamo sintetizzare in questo modo? Buona gara, occasioni sprecate e alla fine puniti ingiustamente da un errore? Eh sì, lo possiamo sintetizzare proprio così. Mercaldo Ops e Politica 7, la vecchia legge del calcio che punisce chi fallisce troppi gol e chi ha punito oltre i suoi demeriti. Cosa è mancato però, secondo lei? Lucidità oppure fortuna? È mancato che siamo essi più bravi nel mettere la palla dentro, perché le occasioni limpide le abbiamo usate, andate 4-5 volte a tu per tu col portiere. Se non metti la palla dentro poi l'episodio alla fine può capitare, è capitato. usciamo con grande delusione, ma che ci deve servire per il futuro, per costruire soddisfazioni future, prendendo spunto da questa amarezza di oggi. Vitali Flash Magazine, aggiungiamo anche Radio ITFM, con lo stop di Oiono sarà fondamentale l'apporto di Sampirisi come valuta la sua prestazione dalla prima titolare e se le diverse occasioni da rete ITFM le chiede, sono solo episodi oppure questo aspetto va migliorato? L'aspetto sicuramente va migliorato, perché le occasioni sono state limpide, le rivedremo, lo sappiamo, e per quanto riguarda la partita è stata fatta bene da tutti gli interpreti, da chi è iniziato, da chi è entrato. Abbiamo fatto una partita tosta, vera, quando c'era da essere solidi siamo stati solidi. Nei 20 minuti abbiamo avuto l'occasione del primo tempo, clamorose 2-3, nei 20 minuti iniziali del secondo tempo ne abbiamo riavute altrettante, quando poi non sblocchi la gala, tieni in bilico, vieni punito, delle volte vieni punito, questa è stata una di quelle volte purtroppo. San Piresi? Ha fatto una bella partita come tutti i suoi compagni.